Ed eccoci qui ragazzi e ragazze, come sempre in compagnia del vostro formidabile Diablotex, pronti per continuare su Like a Dragon Infinite Wealth in versione PS5 in collaborazione con Plyon Italia. Un ringraziamento va a tutto lo staff di Plyon Italia per avermi gentilmente concesso questa collaborazione, per avermi inviato un codice di Like a Dragon Infinite Wealth in versione PS5. Un ringraziamento va anche a Sara di Plyon Italia per avermi gentilmente inviato un codice di Like a Dragon in versione PS5, ma un ringraziamento doveroso come sempre ragazzi va anche a tutti gli iscritti e non iscritti che comunque mi seguono sul mio canale. Allora per chi vuole seguirmi sul mio taxi, tanto offro io, lasciate un like, un commento, condividete il gameplay, iscrivetevi al canale e quindi poi prenderò il taxi in vostra compagnia e andiamo un po' tutti insieme. Tanto ho abbastanza soldi per pagare un po' per tutti, diciamo abbastanza yen in questo caso, ok? Allora andiamo, dobbiamo andare qui, io non so adesso cosa succederà, siamo sulla storia principale, questo l'abbiamo visto insomma, ecco siamo arrivati, siamo arrivati. Beh è tutto, è tutto no? Credo sia giunta l'ora della grande riunione. Già, stazione di Jinnai, una volta partiti da qui non si torna indietro. Va bene, quindi partiamo subito perché tanto ragazzi io ho livellato, ho fatto tutto, quindi possiamo andare direttamente a destinazione. Vediamo un po'. Allora Kiryu-san, pronto ad andare ad incontrare Daigo e gli altri? Vai, livello consigliato, 41, noi siamo a 50, quindi credo che possiamo andare. Andiamo. Ricevuto. Ok gente, non abbassate la guardia. Andiamo. Vediamo un po' cosa succederà adesso. Bellissimo ragazzi l'effetto del mare qui. Ci sono un po' di onde, ma... Va, va. Ci sono andata, stai benvenuti. Se è meglio che sia in San Diego, èvisto in un po' di qui? Eh, eh, eh. Eh, io non mi credo che sia così tentato, a fare una volta che non si vega. Especchio, però io ne Hookeli è un po' di rai. Perché? No, non mi piace, non mi piaccia. Ah, è proprio il Bizet. Grazie a tutti 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 Ragazzi Grazie a tutti 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 Wow Grazie a tutti Grazie a tutti Ci mansi Grazie a tutti Grazie a tutti Un pizzico Grazie a tutti 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 Devastato Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Vediamo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Vai Mamma mia Grazie a tutti Grazie a tutti Vai Grazie a tutti Che colpo Grazie a tutti Lo so Vai Grazie a tutti E così Ne approfitto Wow Grazie a tutti Fantastico Grazie a tutti Vediamo Ho comprato Siamo pazzie Vai Mamma mia Grazie a tutti Grazie a tutti Vediamo Vai Grazie a tutti Ancora Per il Perfetto Perfetto Vediamo Allora Vediamo Un po' Come si Tranquilli Bene Allora Vai Genere quindi Proviamo Wow Ci siamo E' arrivato Nuo E' Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.